Commissione Agricoltura di Camera e Senato, associazioni di categoria e rappresentanti del territorio si sono riuniti in un incontro in prefettura sulla gestione dei boschi nel post-emergenza maltempo. Credo che ci sia assolutamente l'esigenza di intervenire, di intervenire quanto subito. Ringrazio innanzitutto il prefetto Di Belluno che ci ha dato la disponibilità e oltre a aver fatto un ottimo intervento assieme alla Regione Veneto per tutto quello che è stato fatto in queste due settimane. Adesso stiamo ancora facendo la conta dei danni che però deve essere veloce perché siamo prossimi all'inverno, la neve secondo me arriverà molto molto presto. Servono leve economiche. Risorse per fare in modo che il differenziale anche oggi di prezzo del legname in una situazione diciamo deteriorata dal disastro ambientale venga colmato con degli incentivi ovviamente. Ci sono anche problemi di tipo pratico. Sarà un problema a sportare perché comunque c'è un valore in questi alberi abbattuti. Dovremmo recuperarli però per trasportarli e portarli là dove dovranno essere lavorati e portarli fuori dal bosco dovrà esserci un importante movimento di camion e quindi di traffico pesante. La Regione si pone un obiettivo. Riuscire comunque anche a controllare assieme ai proprietari di boschi, ricordo che attualmente esistono 100.000 ettri di cui 60% di proprietà pubblica e 40% privata, quindi di gestire anche tutta questa enorme massa di materiale in maniera omogenea anche nella logistica del trasporto, anche nei piazzali di deposito ma anche soprattutto sul mercato. C'è chi vorrebbe maggiori risorse anche sotto il punto di vista del personale. Un po' di maestranze sarebbe utile riassumerle o assumerle ancora. Il prefetto Francesco Esposito guarda questi momenti di confronto come una grande occasione. Credo che sia stato un segnale importante e anche un momento di confronto che consentirà in futuro di avere poi gli strumenti di cui questo territorio avrà necessità per provare a ricostruire una situazione di normalità.